Wow, mi sto alzando! In questo nuovo video Rosso! Andremo a raccontare e a visitare la tanto discussa nuovissima attrazione di Moviland Mettetevi comodi perché stiamo per entrare in Antares Non so descrivere se hai mal di testa o no Però è abbastanza strano eh Era abbastanza attesa la situa eh Perché Antares? Perché è il nome di una stella e questa l'ennesima stella Che vorrei aggiungere è quella che è l'offerta e dare, potrei dire, delle nostre attrazioni fatte tutte qui dentro Moviland Abbiamo veramente spinto al massimo i motori di tutto il team italiano Veramente questa attrazione è stata fatta dal concept alla parte diciamo strutturale, meccanica, pneumatica, soffioristica E tutto quello che vedete insomma è totalmente fatto e orgogliosamente posso dirlo dal mio team di Moviland Il team totalmente italiano I due migliori esponenti a livello italiano di parchi qui davanti a me si spiegheranno al meglio questa attrazione Wow Che figo raga Dettagli perfetti eh Bellissimo Insomma guardate quanto è fatto bene E che dettagli Noi siamo lo 0-2 Noi siamo lo 0-2 Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione e piacere la vostra flight Che figata Wow Queste sono le nostre postazioni E' il momento Sono il numero 12 Sector B E siamo pronti? Guardate che dettagli Guardate che figata Signori ci siamo Siamo in partenza Non sa descrivere se è mal di testa o no Però è abbastanza strano eh Siamo belli alti eh Mi riparte più veloce il numero Mi sto alzando Non tocco più Non so esattamente dove sono Ma mi sa che stiamo accelerando ancora di più E' fotonico Bravi Bravi Bellissimo Non riesco a descrivere ancora Devo uscire Cioè che voi siete a sparire Siamo tutti stronzi Giro la gata Giro la gata No vabbè ma guarda Siamo su Marte Cioè no vabbè ma guarda Ma che figata Cioè ragazzi siamo su Marte E quindi hanno segnalato così Cioè vi rendete così Cioè vi rendete così Perché è difficile da spiegare Perché non è che hai mal di testa O non stai male È un po' tosto Però è una sensazione da provare Ed è secondo me È una cosa figa da dire Cioè provare questa sensazione Più che un'attrazione È bello Mi è piaciuto un sacco Ve lo consiglio Ambientazione e tematica Bellissimo Poi il fatto che siamo usciti E sembrava di essere su Marte È geniale Cioè è quella ciglia e gira sulla torta Per compiere perfettamente Questo capolavoro Tanto atteso a Moviland Ci vediamo alla prossima Iscriviti al canale Se non l'avete ancora fatto Grazie a tutti Ciao